Una strage di mucche a campo imperatore sterminate dal maltempo e da lupi. Una mandria intera di bovini che pascolava in località le caselle non ha infatti resistito alle avverse condizioni del meteo e all'attacco successivo dei lupi. Una bufera di vento e neve ha zerato il campo di visibilità della zona e nonostante l'allerta meteo diffusa dalla protezione civile, gli operai incaricati della custodia del bestiame sulle aree di bite a pascolo degli usi civici, insieme ad alcuni proprietari del bestiame non sono riusciti a mettere in salvo le bestie e trasferirle in bassa quota. A segnalare il disastro alle autorità competenti per i referti del caso è stata l'amministrazione separata degli usi civici di Paganica e San Gregorio. Il presidente dell'ASBUC, Fernando Galletti, ha scritto una lettera all'assessorato regionale alle politiche agricole e di sviluppo rurale, al comune e alla prefettura, ai carabinieri forestali e all'ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Viste le condizioni generali di grave criticità causate dalle avverse e prolungate condizioni del meteo in tutta Italia, chiediamo agli enti chiamati in causa di adoperarsi affinché ai nostri allevatori venga riconosciuto il danno causato dal maltempo, ha detto il presidente degli usi civici di Paganica e San Gregorio, Ferdinando Galletti. Le mucche senza vita, 13 in tutto, sono state ritrovate a 1800 metri di altezza in località Le Caselle, una zona notorialmente riparata dal vento. Dal sopralluogo effettuato è emerso che, oltre alla bufera di neve, il bestiame ha subito l'attacco di animali predatori. Il bestiame era stato anche ricongiunto in un manufatto in località Fossa di Paganica, con lo scopo di alleviare la discesa a valle, ma l'arrivo improvviso della bufera non ha consentito ai custodi incaricati della guardia di uscire dal rifugio di Sant'Egidio e mette dal riparo tutta la mandria.